in questo video parleremo di come creare una schedulazione di abbe tramonto per il comando di luce esterne accediamo al nostro wiser andiamo in configurator date orario come operazione preliminare dobbiamo inserire la latitudine e la longitudine della dell'installazione del wiser le coordinate le possiamo trovare sia su google maps che su questo sito www.coordinate-gps.it abbiamo per esempio l'indirizzo milano e abbiamo questi valori andiamo a memorizzarli per inserirli poi nel wiser ora abbiamo le nostre coordinate andiamo inserirle attitudine longitudine salviamo ok una volta inserite le coordinate andiamo a creare una schedulazione aggiungiamo la schedulazione oggetto è il comando che possiamo dare adesso possiamo fare un on off attivo luce esterne per esempio validità primo gennaio 31 dicembre va bene salviamo ora associamo a questo comando di luce esterne e degli eventi per esempio accensione avvia a tramonto perché wiser ha all'interno un algoritmo che in base latitudine e longitudine calcola l'orario di alba e tramonto quindi noi mettiamo accensione al tramonto delle luci è possibile inserire uno scostamento orario rispetto a quello che viene calcolato quando tutti i giorni la settimana del mese dell'anno il valore diamo uno per l'accensione e andiamo a salvare facciamo la stessa cosa per lo spegnimento in questo caso mettiamo all'alba il valore è 0 salviamo in questo modo la nostra configurazione è terminata chiudiamo quindi abbiamo una schedulazione di luce esterne automatizzata sia per l'alba che per il tramonto grazie a tutti